Eh ragazzi vedo che intanto mi stanno chiedendo cosa ne penso della situazione afroamericana in America perché del nero lì ammazzato Ma ragazzi la situazione afroamericana è variegato, io dico solo che non mi fido, non mi fido, non mi fido America, 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 America Io non mi fido dei poliziotti americani perché lui probabilmente l'avrà ammazzato perché è nero, c'è la più grossa di lui Quindi cioè i neri vengono ammazzati perché c'era il più grosso ma lì anche lì è variegato Ma poi venite a chiedere a me cosa ne penso del razzismo, cioè andate a controllare Bello Figo nel 2017, via Questo non avete ancora visto niente, questo è poco Billi, billi, billione, billione, billione Allora ragazzi, razzismo, razzismo, ma è inutile che continuate a chiedermi io Cioè ve ne siete accorti solo ora Cioè è normale che la gente incazza, anzi dite agli americani di continuare a spaccare tutto perché Secondo me è giù Cioè solo così chi è razzista davvero può capire perché Quando ti spaccano tutto lì vedrai che forse è meglio la pace Siamo tutti fratelli Lì cazzo Loro dicono eh ma è esagerato andare in giro a spaccare tutto perché non sei Esagerato cioè Hanno ammazzato qualcuno e esagerato Anzi fra poco arriva in Europa Vedrete Ah billi, 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 billi